Procedura penale, video lezione numero 24. Le impugnazioni in generale. L'attività del giudice può essere inficiata sia da errori di fatto che di diritto. Il codice prevede tre gradi di giudizio, due di merito e uno di legittimità. Il sistema delle impugnazioni si ispira ai seguenti caratteri. Tassatività, interesse ad impugnare, convertibilità dell'impugnazione, ricorribilità immediata incassazione e rinunciabilità dell'impugnazione. Tassatività. I mezzi di impugnazione e di casi di impugnabilità sono quelli espressamente stabiliti dalla legge. In deroga a questo principio, la giurisprudenza ha ammesso che è sempre proponibile ricorso per cassazione avverso i provvedimenti abnormi. Sono sempre soggetti al ricorso per cassazione i provvedimenti in tema di libertà personale e le sentenze, anche quando sono inappellabili. Le sentenze in tema di giurisdizione e competenza sono ricorribili per cassazione solo a seguito di conflitto sulla giurisdizione o di competenza. Il principio di tassatività va inteso secondo due punti di vista. Soggettivo, il diritto di impugnare spetta solo alla parte a cui la legge lo conferisce espressamente. Ad esempio il pubblico ministero non può appellare la sentenza di condanna resa nel rito abbreviato. E inoltre se la legge non distingue tra le varie parti, il diritto spetta a tutte. E poi il principio di tassatività può essere inteso anche secondo un altro punto di vista, il punto di vista oggettivo. Così è la legge che deve indicare se un provvedimento è impugnabile e soprattutto deve indicare con quale mezzo è impugnabile. Ad esempio la sentenza di patteggiamento è impugnabile solo con ricorso per cassazione, salvo il dissenso del pubblico ministero che può appellare la sentenza di condanna. Interesse ad impugnare. Si può proporre impugnazione solo se vi è un interesse concreto, diretto e personale ad impugnare. C'è interesse tutte le volte in cui la modifica richiesta della decisione produce un effetto pratico più vantaggioso per la parte legittimata all'impugnazione. Il difetto dell'interesse determina l'inammissibilità dell'impugnazione. Convertibilità dell'impugnazione. Viene riconosciuto dalla legge che l'intento di gravame è prevalente rispetto agli errori di identificazione di mezzo o di giudice. Infatti l'impugnazione proposta ad un giudice incompetente si considera come validamente formulata al giudice competente. Così devono essere trasmessi gli atti al giudice competente. Inoltre, un'errata qualificazione del mezzo di gravame dalla parte impugnante non è da ostacolo alla automatica conversazione ope legis nel mezzo più appropriato. Caso di conversione del ricorso per cassazione in appello. Articolo 580 Il ricorso si converte in appello quando avverso la sentenza vengono esperiti mezzi di impugnazione diversi. Inoltre la conversione è ammissibile solo se la pluralità di impugnazioni riguarda reati connessi. Ricorribilità immediata in cassazione. La parte che ha diritto di appellare ha facoltà di proporre ricorso per saltum in cassazione. Non è consentito però il saltum per censure relative alla mancata assunzione di una prova decisiva e al vizio di motivazione. Inoltre occorre una dichiarazione delle parti di rinunciare all'appello convertendolo per ricorso. Rinunciabilità dell'impugnazione. Articolo 589 Il pubblico ministero può rinunciare all'impugnazione fino all'apertura del dibattimento o prima dell'inizio della discussione. Le parti private possono rinunciare all'impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale. Il pubblico ministero può rinunciare al mezzo azionato di gravame di altro pubblico ministero. Legittimazione ad impugnare Legittimati ad impugnare sono le parti e i soggetti che vantano un particolare interesse al tema decidendum. Il pubblico ministero. Nelle indagini preliminari e nel corso del giudizio di primo grado, le funzioni di PM sono esercitate da magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale. Nei giudizi di impugnazione le funzioni di PM sono esercitate da magistrati della Procura Generale presso la Corte di Appello e la Corte di Cassazione. L'impugnazione può essere proposta dal Procuratore della Repubblica avverso le sentenze di primo grado, dal Procuratore Generale avverso le sentenze della Corte d'Appello. Il Procuratore Generale può proporre impugnazione anche quando il Procuratore della Repubblica abbia fatto acquiescenza alla sentenza. Il potere di impugnare spetta anche al pubblico ministero o persona fisica che ha rappresentato l'accusa nel relativo grado di giudizio. L'imputato può esercitare il diritto di impugnazione sia personalmente sia attraverso un Procuratore Speciale. Il difensore è legittimato ad impugnare se l'imputato l'ha nominato o se riveste la qualità al momento dell'impugnazione. Per l'imputato incapace il potere di impugnazione spetta al tutore o al curatore speciale. L'imputato può togliere efficacia l'impugnazione proposta dal suo difensore. Parte civile e altre parti La parte civile può proporre impugnazioni solo per l'estatuzione civile, sia in caso di condanna che di proscioglimento, ma limitatamente ai capi della sentenza che riguardano l'azione civile. Per quanto attiene ai capi penali della sentenza, la parte civile non è legittimata all'impugnazione. Può sollecitare il Pubblico Ministero con una richiesta motivata, così se il Pubblico Ministero non intende impugnare deve notificare le sue ragioni al richiedente. Difensore della parte civile può autonomamente proporre impugnazione, sebbene nella procura speciale non si faccia espresso riferimento a tale potere. Responsabilità civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria possono proporre impugnazioni sia per l'estatuzione civile che per quelle penali, tranne nel caso in cui l'imputato sia stato condannato, ma responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria siano stati prosciolti dalla responsabilità civile. La persona offesa e gli enti esponenziali non possono impugnare la sentenza, tutt'al più possono sollecitare il Pubblico Ministero a farlo. Il querelante, se condannato alle spese per assoluzione dell'imputato, può impugnare la sentenza solo in relazione a tale capo. Forme, termini e inammissibilità. La forma di presentazione dell'impugnazione può essere diretta o indiretta. È diretta se viene presentata direttamente nella cancelleria del giudice, indiretta se viene presentata a mezzo posta o telegramma. L'atto di impugnazione va notificato di ufficio alle altre parti allo scopo di consentire ad esse la presentazione di un'eventuale impugnazione incidentale. Il contenuto dell'atto di gravame previsto dell'articolo 581 appena di inammissibilità deve avere, quindi il contenuto dell'atto di gravame deve avere appena di inammissibilità, deve contenere i capi e i punti della decisione a cui si riferisce l'impugnazione, i capi della sentenza sono i provvedimenti contenuti nella pronuncia ed emanati in relazione a ciascuna azione, a ciascuna parte, come ad esempio la pronuncia di condanna, e il punto della sentenza è ogni statuizione del giudice su ciascuno degli argomenti da lui esaminati. deve contenere le richieste, quali l'assoluzione, la riduzione di pena agli istruttori, i motivi di doglianza con specifica indicazione delle ragioni di fatto e di diritto e l'indicazione delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa erronea valutazione. I termini. Il DSQO dell'impugnazione decorre dal termine previsto per il giudice per il deposito della sentenza. L'articolo 585 prevede i seguenti termini per proporre impugnazione. 15 giorni per i provvedimenti decisi in Camera di Consiglio o per le sentenze la cui motivazione sia stata letta in udienza insieme col dispositivo. Per i procedimenti in Camera di Consiglio il termine decorre dalla comunicazione al PM o dalla notificazione alle parti private dell'avviso di deposito del provvedimento. In caso di redazione contestuale della motivazione il termine decorre dalla lettura del provvedimento in udienza. Sono 30 giorni invece quando la motivazione della sentenza è stata depositata successivamente all'udienza di deliberazione e 45 giorni quando si tratta di sentenza con motivazione complessa per la quale il termine di deposito per il giudice può raggiungere anche i 90 giorni. I termini per impugnare una sentenza possono essere così riassunti. In caso di procedimenti in Camera di Consiglio il termine per impugnare è di 15 giorni che decorre dal giorno del deposito della sentenza. Nel caso di sentenza con motivazione contestuale il termine per impugnare è di 15 giorni dal deposito della sentenza. Se il giudice non indica il termine per il deposito delle motivazioni della sentenza il termine per impugnare è di 30 giorni decorrenti dal giorno in cui è stata depositata la sentenza. Se il giudice deposita la motivazione oltre i 15 giorni dal deposito del dispositivo occorre l'avviso di deposito della sentenza notificato all'imputato. In caso di procedimenti in cui il giudice fissa un termine per il deposito delle motivazioni della sentenza il termine è di 45 giorni oltre i giorni presi dal giudicante. Esempio pratico. Il dispositivo data ultimo udienza è stato depositato il 01-01 del 2018, l'1 gennaio del 2018. Il giudice si prende 30 giorni per il deposito della motivazione della sentenza pertanto il termine per impugnare sarà 30 giorni più 45 decorrente dal 1 gennaio 2018. Se il giudice deposita la sentenza oltre i 30 giorni decorrenti dal 1 gennaio 2018 dovrà essere notificato avviso all'imputato, che cosa? Avviso di deposito della sentenza. E solo a partire dalla data di notifica del deposito partiranno chiaramente, decoreranno altri 30 giorni affinché l'imputato possa validamente espletare il suo diritto all'impugnazione. Questi termini sono stabiliti appena di decadenza. La loro inosservanza determina l'inammissibilità dell'impugnazione con la relativa declaratoria di inammissibilità. Sono cause di inammissibilità dell'impugnazione Mancanza di legittimazione o di interesse ad impugnare La non impugnabilità del provvedimento Il mancato rispetto delle forme e dei termini per impugnare La rinuncia dell'impugnazione La mancata enunciazione dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione La mancata enunciazione delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa erronea valutazione La mancata enunciazione delle richieste anche istruttorie La mancata enunciazione dei motivi con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta L'inammissibilità è dichiarata dal giudice ad quem che ordina l'esecuzione del provvedimento impugnato e la condanna alle spese a carico della parte che ha proposto l'impugnazione L'ordinanza di inammissibilità è chiaramente ricorribile per Cassazione Effetti dell'impugnazione Alla proposizione dell'impugnazione conseguono gli effetti sospensivo, devolutivo ed estensivo Effetto sospensivo produce una paralisi dell'esecuzione del provvedimento sia durante il termine per impugnare sia durante il giudizio di impugnazione Tale effetto non si produce per i provvedimenti in tema di libertà personale Effetto devolutivo Concerne l'ampiezza di cognizione del giudice di impugnazione che può estendersi o all'intera materia trattata dal primo giudice effetto interamente devolutivo ovvero a parte di essa cioè effetto parzialmente devolutivo Il giudice del gravame ha cognizione nei limiti del devoluto tanto un devolutum quanto un mappellatum Tali limiti sono determinati dalle parti che devono indicare i capi e punti della decisione impugnati ed i motivi di gravame Tale ambito di cognizione non è più modificabile Infatti i motivi nuovi presentabili devono appena di inammissibilità essere ricollegati ai capi e punti della sentenza già impugnati Effetto estensivo sta ad indicare che la proposizione del gravame è idonea a determinare effetti anche su parti diverse da quelle che hanno impugnato Esempio di effetti sospensivi dell'impugnazione articolo 587 nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato l'impugnazione proposta da uno degli imputati giova anche agli altri perché non sia fondata su motivi esclusivamente personali Questo ovviamente è un esempio di effetto estensivo dell'impugnazione Erroneamente avevo detto effetto sospensivo